Salve ragazzuoli, bentornati nella nostra serie di sopravvivenza Minecraft Survival Ita, non mi ricordo più come l'ho chiamata Comunque, non sono qua per dirvi il titolo, però sono qua per farvi vedere questo magazzino Lo so, ci abbiamo fatto due episodi, forse tre su questo magazzino, ma in questo momento, guardandolo, non mi piace più Cioè, lo so, lo so, avete ragione, ho messo un sacco di tempo per farlo, non è ancora finito Però, non lo so, ho fatto un po' di prove, sali, scendi, non è esattamente il massimo della comodità E infatti, ho pensato di farlo in un altro modo, ho fatto delle prove, vi faccio vedere quello che ho pensato Praticamente, mi sono immaginato di fare un magazzino tondo, cioè circolare Praticamente, tu entri e stai tipo in un silos e smonto un po' di chest, così ve lo costruisco un attimo la base lì E vi faccio vedere quello che ho pensato Eccomi qua, ho tolto un po' di chest, non le ho ancora tolte tutte, perché poi non è che mi metto a costruirlo registrando Che, voglio dire, ci abbiamo già passato tempo a fare il magazzino Quindi, penso che vi faccio vedere tutto il lavoro compiuto, o comunque con una marea di tagli Allora, la mia idea è la seguente, fatemi un attimino otturare buchi che stanno qua sparsi Perfetto, io ho pensato, qua sfascio tutto, quindi ricostruisco anche la montagna E voglio fare un magazzino che sia strutturato in questo modo Allora, non così, perché io ho problemi con le chest, non lo volevo dire, però lo devo dire Ho seri problemi a fare, ok, ecco qua Quindi, questo è come lo vedrei entrando Quindi qua metterei una doppia chest così Una qua, una qua, e poi qua, di nuovo, non dovevo fare questo, ma dovevo fare questo Un attimino, eh, con molta calma si fa tutto Poi, dovrebbe essere più o meno così l'idea Ok, sta prendendo forma Non perfettamente, ma sta prendendo forma Ne sono quasi convinto Qua ce ne metto una così Ok, più o meno questa dovrebbe essere l'idea Vediamo se rende Allora, immaginate che questa sia l'entrata del mio magazzino Adesso io devo sfasciare i blocchi per forza Quindi entrerai nel magazzino così Qua sarà tutto quanto all'interno E mi troverò in questo preciso punto Che quasi quasi fare una roba del genere Cioè farei proprio un buco Eh, però sto spiegando, porca la zozza schifa Dicevo Quindi immaginate tre, quattro piani, cinque piani di chest E io sto qua, centrale, quindi entro nel magazzino Sto qua E in teoria da questa posizione dovrei essere in grado di aprirle tutte Senza spostarmi di una virgola Ho fatto delle prove e riesco ad aprire fino a tre piani Forse anche quattro, non lo so Quindi secondo me sarebbe molto più carina come cosa Rispetto al sali e scendi Quindi lo farò esattamente così Dove adesso stanno queste scale Sfascio tutto e ci faccio una roba del genere Non vi faccio vedere tutto il processo di costruzione Perché mi rendo conto che potrebbe essere abbastanza palloso È palloso anche per me che lo devo fare Però con calma lo faccio Quindi vi faccio vedere al lavoro finito cosa ne viene fuori Suppongo che ci dobbiamo vedere tra un po' Aspettatemi Ma attenzione Prima di fare questo Mi ero scordato un punto Lo so Io sono un po' distratto ultimamente Perché c'è un sacco di cose da fare Mi ero riproposto di fare una cosa Prima di sfasciare questo magazzino Ho visto che sotto i video Per fortuna Infatti sono molto contento Mi state riempiendo di commenti Alcuni di questi commenti Oltre a dire complimenti Bello Tutto carino Mi state anche dando dei suggerimenti Molto apprezzati Visto che io con il tempo Sono sicuro che me li scorderò E visto soprattutto che io comunque Il video Non è che lo registro oggi E lo pubblico domani Quando posso Ne registro due tre di fila Mi capita che magari il commento Che voi mi fate nell'episodio 5 Io lo leggerò quando esce l'episodio 9 E quindi sicuramente mi posso dimenticare Come fare a non dimenticare questa roba Mi costruisco un bel libro E ci scrivo dentro i commenti Che mi piacciono con i consigli Quindi con il nome di chi mi dà il consiglio Con il consiglio E piano piano Faremo tutta quella roba che mi suggerite Per fare questo mi serve un libro E voi direte Va fatti un libro Sì Se mi ricordassi come si fa Volentieri Allora io mi ricordo che il libro Se fa con la carta E fin qua non ci piove Esatto Ho la carta? Non ho la carta Mi ricordo anche che ci vuole la pelle Quindi devo andarmi a prendere pelle e carta Vado un attimo Allora la pelle ce l'ho E ne serviva una Se non mi ricordo male La carta me la posso fare In questo modo Mi pare che ce ne volessero tre Non mi ricordo nulla Ma sapete che vuol dire il nulla? Ok tre In teoria la carta si faceva così Però questo è un libro normale Io mi ricordo che per fare il libro Serviva un'altra cosa L'inchiostro Potrebbe essere Vediamo se riesco a trovare il libro qua dentro Come che Vabbè se faccio così e lo cerco Forse è meglio Book Mi dà solo questo Forse dovrei provare a prendere dell'inchiostro Che ancora non ho preso Cerco una squid La secco male E vediamo che succede Allora vuoi che non trovo una squid? Allora già l'ho vista Aia Che cos'è? Oddio Non lo so L'avevo scambiato per un polpo gigante Assassino Ma Ma da quanto è che queste si difendono? Ok Ho preso l'inchiostro Gli affogati Ma da dove è arrivato questo? Vediamo se mi si è sbloccata una ricetta Ok La ricetta non si è sbloccata Devo andarmi a vedere su internet Non ci sto credendo Ok ragazzoli ho visto Serve anche una piuma Ma io ce l'ho la piuma Perché lui non me lo consiglia questo? Allora in teoria Ah Ho capito perché non me lo consiglia Perché non ho ancora fatto il libro Vediamo se faccio il libro Mi si sblocca Eh infatti Mi si è sbloccata la ricetta Lo sapevo Quindi se muoio faccio book Eccolo qua Signori abbiamo il nostro libro Che in teoria dovrei poter aprire così Oh ma una volta c'era il modo per mettere il titolo a sto coso? In teoria si Se lo firmo non lo posso più toccare Perfetto Allora lo chiameremo il libro Ah proprio il libro dei suggerimenti No Ah non mi piace Il libro delle idee Perfetto E adesso ci scriverò anche i vostri suggerimenti Eccomi qua Sono tornato Ok mi sono scritto tutto Se mi sono saltato dei consigli Riscrivetemeli nei messaggi Magari che ne so Mettete hashtag Consigli Fate voi Allora andiamo a vedere quali consigli Mi sono segnato Allora Playfreeday Mi dice di fare le farm automatiche E ovviamente le faremo Però me lo scrivo Nel caso me lo dovessi dimenticare Un'amnesia E li assi invece Una cosa bella Un intreccio di ponti in caverna Questa idea mi piace un casino Perché ci avevo anche già pensato Ora riscendo giù in caverna Se non muoio male Eccoci qua Nella fattispecie Fare tutto un intreccio di ponti Che magari da lì Collegano lì Oppure che ne so Qua un altro ponte che va lì Secondo me Non è per niente una brutta idea Quindi sicuramente Faremo pure questo Poi cos'altro ci abbiamo Allora Calogero mi aveva consigliato Di fare il numero Dell'episodio più grande Nella copertina E l'ho fatto Infatti Grazie Perché non mi ero accorto Che non si leggeva Poi Eviljoy Mi ha consigliato Di usare le slab di bambù Come combustibile Ci proveremo sicuramente E sempre Eviljoy Mi ha consigliato Di farmi un libro Con le coordinate dei tesori Che trovo strada facendo E magari non c'è il tempo Di andare ad esplorare Eppure questa è una cosa Che faremo Quindi Questa cosa L'abbiamo scritta Questo libro Lo costituiremo Bene da qualche parte Non so dove Faccio una cesta E io continuo A smontare il magazzino E ci vediamo Tra un bel po' Ragazzi Per chi di voi Se lo stesse chiedendo Sto scavando Signori Sto smontando Il magazzino È un lavoro Estremamente palloso Non tanto Quando rompo la pietra Ma quando rompo Sti bellissimi blocchi Che ho detto Mi piacevano Già li sto schifando Malissimo Perché ci vuole Un botto di tempo Per romperli Anche con i piccoli diamanti Piccone di diamante Che nel mentre Sto iniziando a consumare E la cosa Mi inquieta tantissimo E con il piccone Leggermente consumato Sono riuscito a liberare Tutta sta roba Che avevo costruito Ok un po' Mi dispiace Però andava fatto Ora inizio a piazzare Le chest In modo che il magazzino Prende forma E il primo piano L'ho fatto L'ho messo pure in modo Che in teoria Non vedo L'apertura Le ho girate tutte quante carine E adesso faccio Gli altri piani E ovviamente Mi sono appena reso conto Che mi serviranno Altre chest Perché le ho finite Tutte Però in teoria L'idea ci sta Vado a fare Delle altre chest Dove avere del legno Ci vediamo tra un po' Eccoci qua Secondo me Già così potrebbe bastare Cioè sono più di prima Sicuramente E comunque Arrivo da tutte le parti Semplicemente facendo Mezzo passo avanti Niente di che Secondo me ci sta Quindi l'ingresso Del magazzino Sarebbe questo qua Qua costruisco tutto Di nuovo la montagna Sì Continuo a fare cose Ci vediamo tra un po' Tra molto un po' Ecco fatto ragazzoli Ho fatto l'interno Quindi si vedono solamente Blocchi di deep slate Da tutte le parti Il pavimento Lo lascerò così E poi ovviamente Qua devo ricostruire La montagna Il bello di questo magazzino Al di là del fatto Che è molto comodo Perché ripeto Tu da un punto centrale Praticamente Vecchi tutto Quello che ti serve Più o meno Sarà che fuori Sembrerà incorporato Nella montagna Quindi qua Costruirò di nuovo Tutta la montagna Probabilmente userò Proprio la pietra liscia Questa qua Non lo so ancora E poi ci occuperemo Dell'illuminazione Quindi sarà tutto quanto Molto molto carino Incorporato nella montagna Secondo me Viene bene Però mi dovete dare il tempo Di finire qua Non ve lo faccio vedere in video Altrimenti Voglio dire Ci siamo stati troppo tempo Su sto magazzino Quindi facciamo una cosa Veloce La finiamo E vi faccio vedere Il lavoro completo Ci vediamo tra un pochino Ragazzoli Questo è il lavoro Finito Più o meno Insomma Ho ricostruito Abbastanza bene La montagna Secondo me Ho fatto un po' di robette Qua Poi magari Con il tempo Lo aggiustiamo Insomma È solamente una versione Provvisoria Però dentro Dai Fa la sua porca figura È comodo Ci sta tutto Quindi adesso La cosa che sicuramente Dobbiamo fare È trasferire Le nostre cose Che stanno lì su Qua E poi decidere Dove mettere I vari oggetti Questa è una cosa drammatica Che io sono negato Questa cosa Perché Allora Avere tutti Gli time frame Su ogni cesta Non mi piace Perché poi Per cliccare Divento un casino Quindi dovrò trovare Un modo Per mettere Che ne so Una colonna Un tipo di oggetti Non lo so Ma vediamo Intanto vado a prendere Un po' di roba sopra Inizio a portare giù E poi procediamo Il mio cavallino È sempre vivo Meno male Gli dovrò dare un nome Prima o poi Non ho idea Di come chiamarlo Ma insomma Un nome Lo troveremo Ehi Qua c'è un sacco Allora Sto diamante Non lo dobbiamo toccare Abbiamo detto Che questo Andrà in una teca Perché è il primo diamante Magari lo rinominiamo Pure come primo diamante E lo terremo Da qualche parte Al sicuro Io devo portarmi oggetti Vabbè Raga Io penso che Mi organizzo un attimo Il magazzino E poi ritorniamo Allora Sto sfasciando La mia vecchia base Perché ho portato Un po' di roba giù Adesso rompo pure questi Che porterò Ovviamente giù E Sì Ci stabiliamo Direttamente là Nel mentre Non ho registrato Purtroppo Ho beccato un altro slime Quindi la mia teoria Che sto Praticamente in un chunk In un chunk di slime È corretta È esattamente corretta Il che Mi fa molto piacere C'erano pure dei phantom Ho dovuto dormire Adesso Riscendiamo giù E Senza morire Perché ho appena rotto il letto Quindi cerchiamo subito Qui ci metterò Compass Sender Perl Diciamo Robetta così Qua ho deciso di fare Tutta la roba che riguarda La coltivazione Tutto quello che è la terra Qua ci dovevo mettere Semplicemente la lana Ma poi ci ho messo pure questi Non so perché Mi sono sbagliato Qua metterò invece I minerali Qua Roba che riguarda L'armatura E qua per il momento Ci ho appoggiato Sto libro Ovviamente È una sistemazione Completamente provvisoria Perché poi La gestiamo Un attimino meglio Sta cosa Però era giusto Per togliermi Dalle balle Questi poi li dovrò rimettere Perché devo farmi La fornace Ovviamente Qua sotto Faremo subito La fornace Automatica Cioè subito Non in questo episodio Perché penso Che sto registrando Da un po' Quindi Non c'entrerebbe Pure la costruzione Di una bella fornace Automatica Però vorrei fare Una di quelle belle Fornace automatiche Con tante fornaci Con il carrello Insomma Che ti velocizzano tutto Non so ancora Esattamente Da quale lato Perché Devo ancora decidere Come muovermi Qua sotto Eh Qua lo spazio è grande Però sicuramente Io penso Che la fornace Per smeltare i materiali Sia utile Averla vicino al magazzino No Non trovo Cioè penso proprio Che sia La posizione ovvia Lì dobbiamo fare Un ascensore ad acqua Per salire e scendere Molto più comodo Di quella fontanella Che scende così Questo lo togliamo Perché non ci serve a nulla E poi dovremo fare Tante altre belle cose Mi serviranno Dei minerali Quindi Più avanti Faremo pure Una bella sessione Una bella sessione di mining Inizieremo anche A smeltare Un po' Di quarzo Lo trasformiamo In circuiti Quindi ci facciamo I repeater E tutta quella robetta Alla che manco Mi ricordo Come si chiamavano E iniziamo a fare Qualche cosa Di automatizzato Qua sotto Così Tanto per Bene Stavo montando il video Mi sono accorto Che comunque Abbiamo ancora tempo Quindi io direi Di andarci a fare Una bella sessione Di mining Anche perché Se devo farmi Le fornaci automatiche Mi serviranno Sia i binari Che gli hopper Si chiamavano hopper Le tramogge Insomma Quindi secondo me Sarebbe molto utile Andare a prendere minerali Io qua sto messo malissimo Allora purtroppo Il piccone di diamanti Non lo uso Perché sta là per morire Quindi mi prenderò Un po' di legno Ci facciamo Dei picconi di ferro E andiamo Un attimino A prenderci minerali Devo trovare Un bel po' di ferro Ma tanto Tanto Perché quello che c'ho Secondo me Non è che basta E anche se basta Comunque non è sufficiente Ce ne vuole di più Quindi io mi farei Guarda Proprio quattro picconi Cioè sono intenzionato male Ma proprio male Allora quattro picconazzi Ce li siamo fatti Cibo Ce lo abbiamo Questo posiamo qua Sarebbe bello Andare Oh il diamante Però lo devo posare Qua non lo posso posare Dove lo poso il diamante Lo metterò qua Cioè proprio da solo Bello tranquillo Questa roba Non mi serve appresso La butto qua Anche questa Ovviamente Il carbone Vabbè ce lo portiamo Per le torce Torce che mi devo pure fare Giustamente Magari mi prendo pure Un altro po' di legno Ok Facciamo un bel po' di torce Tanto per avercele Eccole qua Perfetto Io direi che possiamo Anche andare Il cibo Ce l'ho Una pozzetta d'acqua Dove prendermi Un secchio d'acqua Al momento non ce l'ho Allora Io opterei per Sto pensando Allora iniziamo qua su Vediamo che cosa ci sta Intanto esplorare minecraft Con sta cosa nuova Delle caverne Super mega Fiche È bellissimo Ecco Tu non sei molto bellissimo Allora Questo al momento Non me ne faccio Proprio nulla Qua c'è la morte Qua giù Probabilmente Sì Allora illuminiamo tutto Perché altrimenti Non vedete Una ciuffola Di nulla Qua già ci sono andato Vedo delle torce Che mi fanno pensare Infatti già ci sono andato Ok Allora Chi il primo Che vede ferro Faccia un segno Al momento Io non vedo Del ferro Mi piacerebbe Eh Là c'è uno scheletro Che non E qua ci sono Ma lo vedete Quanti slime ci stanno Qua porco lo schifo Aspetta un attimo Stavo a vedere gli slime Maledetto Bastardo Schifo Aspetta che devo fare il giro Di qua Qua c'è un creeper Limitizzato malissimo Io intanto Illumino tutto Perché ragazzuoli Qua Se non illuminiamo tutto È vero che L'ho già detto E lo ripeto Con questo nuovo fatto Delle luci Che praticamente Adesso i mob Possono spawnare Solo dove c'è Luce zero È una gran figata Almeno non facciamo I cimiteri Con 2000 lumini In giro per il mondo Quindi è una cosa Molto bella Allora Io qua sotto Mi ricordo che c'era Qualcosa di molto carino Dove si andava Di qua No di qua Allora dove ho trovato I diamanti Voglio andare Vediamo se mi ricordo Qua sotto era Non mi ricordo nulla Ovviamente No qua ho preso La deep slate Giusto Sì esatto Qua finisce così Allora devo andare Da quest'altro lato Vediamo Forse era qua Ma no Mangiamo pure Ma pure la spada C'è uno schifo Madonna Cioè Ah Lo sapevo Che sarebbe successo Ho dei blocchi Non ho dei blocchi Vabbè Prendiamoci un attimo Dei blocchi Che non mi servono Per spegnere il fuoco Ovviamente Ecco Mi sono spento Alla fine Mi sono preso Direttamente la lava Col secchio Allora mettiamo una torcia Vediamo quanto ferro Ci asce da qua sotto E mamma mia Cioè festa grande Proprio Che cazzo Rola Un pezzo Allora qui si sono già passato Però forse mi ricordo Che era una strada chiusa E infatti è una strada chiusa Dove ho preso i diamanti Che non mi ricordo Io mi perdo tantissimo Torniamo di qua Oh qua c'è del ferro Stavo andando a morire male Nella lava di nuovo Ce la faccio Ce la faccio Perfetto Qua metterei anche una torcia Così tanto per avere l'illuminazione Non mi ricordo dove ho trovato i diamanti Quanto ferro esce Ok Due già è buono Sì vabbè scherzavo Che cacchierota Dammene tre almeno Allora forse sono andato da questa parte Vediamo se è vero Sì probabilmente è qui Ok Iniziamo ufficialmente La nostra sessione di mining Oh là Ferro Il ferro è bellissimo E poi ripeto Ste caverne a me piacciono un casino Perché ti fai mining Semplicemente esplorando Non è come prima Che dovevi ucciderti A scavare i tunnel Che era pure abbastanza noioso Invece qua vai a esplorare E trovi i minerali Che ti servono Vero che puoi rischiare di morire male Ogni 5 nanosecondi Perché giustamente Ti becchi pure i mob Però voglio dire Minecraft Se non c'è un po' di rischio Qual è lo sfizio Allora Quest'altro ferro Pure me lo prenderei Decisamente La mia idea sarebbe Quella di farmi un paio di stack di ferro Così Tanto per iniziare Però pure questa Mi servirà Perché come ho detto Voglio fare un po' di circuiti Quindi la redstone È abbastanza fondamentale Forse di qua siamo andati Uh Altro ferro Ma me lo sono saltato tutto il ferro Praticamente Aspettate Fatemi guardare un attimino Che qua mentre sto per aria Magari mi spunta il creeper Che mi secca male Ok È bruttissimo Quando scavi E non ti guardi in giro Sempre e sempre Perché arriva il creeper Non è peraltro Qua c'è sto pipistrello Troppo carino Che sembra un topo Qua non c'era nulla Se non mi ricordo male E in teoria Io dovrei essere passato Più o meno qua Qua sotto Che No Questo è il mio portale Ho sbagliato Aspetta Mi sono perso un'altra volta Drammaticamente Io arrivo di là Vediamo qua su che ci sta Ma che cacchio di giri ho fatto Io non dico È qua Era qua Era qua Era qua Ma sono quasi sicuro Non ho mai visto questo posto Ma sono quasi sicuro Che forse era qua Ok Aspetta Ragnetto Ho la spada Un attimino messa male Potresti morire male Tu da solo E 18 colpi Forse sarebbe il caso Di farci una spada nuova Ma non ho il ferro con me Potrei tornare a farmela un attimo Sì Forse torno un attimo A farmi la spada Comunque è bellissimo Sto posto E mentre tornavo Ho trovato un altro pezzettino di ferro E che fai Non te lo prendi? Certo che ce lo prendiamo Ovviamente Uno solo Mamma mia Mi sono tirati a sto gioco Però eh Lassù ci sono altri due pezzi di ferro Ma quelli Li prenderò dopo Allora Necessito di una nuova spada Ora mi sento decisamente più sicuro Potrei farmi già lo scudo Come qualcuno di voi mi ha suggerito Però non me lo farò Adesso Mi voglio godere un attimino Il brivido Di andare senza scudo Tanto l'armatura ce l'ho Poi perché c'ho questa? Ah perché sono andato nel neder E mi sono rimasto sto coso d'oro Schifoso Vabbè Allora abbiamo detto Era da qua Che io sono sceso Sì Quindi ho girato di qua Voglio ritrovare il posto Dove ho Preso i diamanti Io mi ricordo Che si andava da sta parte E guardate sto pezzo di ferro Come stava nascosto Sempre uno solo Ma che è? Niente Sto girando in tondo Mi son perso Vabbè Allora andiamo di qua E chi se ne frega Prima o poi lo ritroveremo Quel posto dove abbiamo Beccato i diamanti Io due minuti fa Ho detto che non mi son fatto Lo scudo per il brivido Non so perché Ma ho la sensazione Che mi pentirò tantissimo Di non essermi fatto lo scudo C'ho questo presentimento Malissimo proprio Guarda Eh vedi Te lo dicevo a fa Faccio lo scheletro Il creeper ce lo lasciamo Alle spalle Allora voglio provare A sto punto Forse sono andato di qua È possibile Vedo delle torce Potrei aver fatto Questa strada Secondo voi Chi è? Uno scheletro Maledetto scheletro È ancora vivo Ma muori un attimino Malissimo Grazie Mettiamo una torcia pure qua Vediamo qui dove ci porta Io qua già ci sono passato Eh ci stiamo arrampicando In posti strani Porca zozza Ho visto il nano Là sotto c'è un nano Lo dico io Là sotto c'è un malefico nano Potresti morirci male? Guarda Guardalo Guardalo Porca zozza Quanto rischio io quei nani Forse era qui Uh Le diamanti Signori Attenzione Attenzione Perché qua la situazione sta svoltando Benissimo Quelli sono diamanti E c'è anche del ferro Bene Molto bene Allora Mettiamo torce un po' da tutte le parti Ed ecco il diamantino Allora Ce ne sarà solamente uno? Ma non lo voglio mai pensare Come minimo Questo diamante nasconde Eccoli qua Ne sono due Ma secondo me Ce ne sono molti di più Ne sono quasi convinto Infatti Infatti Ok Va bene Iniziamo a prendersi i diamanti Uno Due Tre Quattro Cinque Ce ne sono ancora? Vabbè Cinque diamanti O spusaci sopra Là ho visto uno zombie che si sta avvicinando Lo ignoreremo Tanto che ci frega Prima o poi arriva da solo No? Eccolo qua Che è venuto a morire Che lui sa Che deve morire male Allora ho visto dell'altro ferro da qualche parte qua Andiamo a esplorare un po' pure queste pareti Mettiamo torce Tanto devo illuminare tutto Cioè questo posto dovrà diventare sicurissimo Anche perché il magazzino Non so se ci avete fatto caso Ma non ce l'ha una porta Quindi Se qualche mostriciattolo Che ne so Tipo uno a caso Un creeper Parte da qua Zitto zitto Quattro quattro E mi arriva nel magazzino Mentre io magari sto di spalle a fa cose E esplode Eh non è proprio il massimo Cioè penso che potrei porconare direttamente Capite? Allora è meglio Illuminare tutto Così ci evitiamo Spiacevoli sorprese Ho deciso di fare così Perché Non ho voglia di farmi la solita base chiusa Con le porte Cioè voglio tutto un bellissimo open space Anche perché a me gli open space Mi piacciono un casino Non ricordo se ve l'avevo già detta questa cosa Ma io sono un amante degli open space E l'ho visto dei diamanti Attenzione signori Signori Attenzione che qua Cioè ma cos'è La grotta della rivelazione Quello è un diamante In un posto di merda Diciamocelo Ma comunque è un diamante Qua pure sopra c'è del ferro Io spero che sia piacevole vedere questa sessione di mining Tra un saltello e l'altro Perché non me ne rendo conto Però dai Diciamo che dovrebbe Cerco di muovermi più lentamente possibile Con il mouse Per non farvi venire la nausea Intanto sbircio pure un po' qua su Allora io sto andando bello spedito Anche abbastanza tranquillo Ma in tutto ciò Non mi ricordo dove sono arrivato io Cioè fondamentalmente mi sto perdendo di nuovo Allora qua non mi inoltrerei oltre Non mi inoltrerei oltre Bellissimo Allora questo qua lo sfascerei tranquillamente Poi lo vado a prendere Bene Là c'è il nostro diamantino Qua c'è dell'altro ferro Anche qua c'è dell'altro ferro In questi blocchi durissimi Altro ferro ancora E andiamoci finalmente a prendere il diamantozzo Eccolo là Guarda come ti guarda Guarda come ti guarda Vieni Come cazzo Allora come faccio Non volevo fare 2000 pilleroni Ma vabbè Li facciamo un attimo Là c'è anche uno zombettino carino Allora questo lo sfasciamo così E ce ne sono due Non ci credo Non ci avrei scommesso mai Ma dai Sì Scavo la pietra con la carne Va bene Basta Basta Ok Possiamo riscendere Qua c'è uno zombi carinissimo Che sta rompendo le Oh Amico Hai rotto il cazzo Va bene Andiamo qua Lo so che ho lasciato i diamanti a terra Non vi preoccupate Mo' li vado a prendere Cosa vuoi che gli possa mai succedere A quei diamantini Stanno là che mi aspettano Disse lui Mentre un creeper esplodeva Con i diamanti in mano Praticamente No no dai Mi sta venendo l'ansia Fammi andare a prendere sti diamanti E guardatelo un altro slime Che bello Che figata Che ho beccato il chunk degli slime E' proprio una grande figata Io adoro il chunk degli slime Perché c'ho un sacco di slime Vole a portare di mano Qua ci prendiamo dell'altro ferro Che schifo Non ci fa E intanto siamo a otto diamanti Ragazzuoli Otto diamanti Otto diamanti E' bella roba E' tanta bella roba Ho visto una cosa interessante Qua ci prendiamo pure queste Come siamo messi a ferro Ok uno stack L'abbiamo fatto Mi ero riproposto Di fare due stack di ferro Io qua illuminerei Un attimino Tanto per Dove si va qua Si scende Si scende verso un posto Dove io mi perderò malissimo Però c'è dell'altro ferro E ovviamente io me lo prendo Vabbè Andiamo qua Prima o poi Troverò la strada per tornare Forse Un giorno Nella peggiore delle ipotesi La tecnica sovrana Bel pillarone verso l'alto E tutto passa In teoria Dove sto andando a finire qua Attenzione Attenzione Sento cose strane Ho sentito uno scheletro Senta degli scheletri No Che ci sta Eh ma qua sotto È un po' pericoloso No Ho sentito dei rumori Da qualche parte qua Uh Attenzione Signori attenzione Questo mi sembra uno spawner Di scheletri Porca la zozza schifa Cioè bellissimo però Non era il posto Cioè dai Uno Un mob Mob spawner di scheletri Con un buco nel pavimento E questi Vieni più qua Basta Abbiamo uno spawner Di scheletri Che è una cosa Fichissima Ora noi dobbiamo fare Una cosa molto veloce Tipo mettere Un attimo di torce qua Allora se tu ci No io qua ci muoio Aspetta 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 Non Non andiamo troppo veloci Facciamo le cose con calma Perché Non c'è fretta Non c'è fretta Tanto non se ne scappa Quello spawner di scheletri Con calma Facciamo così Magari anche così E magari qua Oh ce la faccio Apprendo il piccone Sì Eh sì È proprio uno spawner di scheletri Signori Attenzione È già la nostra farm Di esperienza E di ossa Ce la siamo Cuccata Se non ci muoio male Ovviamente Ok Bisogna stare calmi Perché Dopo anni che uno Non gioca a minecraft Buttarsi in un Mob spawner di scheletri Non è che sia La passeggiata di salute Che tutti si aspettano E attenzione Allora quello L'abbiamo disattivato sicuro Questo muo'attiva Lui è ignaro Che io sto qua sotto Non è vero Lo sa Non lo sa E levati dalle balle Ok Abbiamo finito Un'altra addominatina Pure qua Allora Ciao ragazzi Quanto siete carini Lo so che non servono Tutte queste torce Cosa mi Che schifo C'è proprio la depressione Però è mamma mia Un disco E una sella Che è una cosa buona La sella per il cavallo Guarda dove si va Intanto io mi sto perdendo Malissimo Vabbè Mi aspettavo di trovare Un altro scheletro C'era ovvio Dove sei Muorici male Cos'è questo Aspettate ma io Se non mi ricordo male Vicino alla mia base C'era un Come cavolo si chiama Sta cosa Ametista Io mi ricordo che c'era Non è che sto vicino Alla mia base Da qualche parte ci ritorno No Qua muoio male Affogato Non mi sembra il caso Qua Sono dalle parti Della mia base Signore Io ho proprio Il drammatico Sospetto di essermi Perso male Vabbè Là c'è lo spawner di scheletri Ok qua ci sono le torce Fermi 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 Tutti Abbiamo trovato di nuovo Delle torce Quindi io qua ci sono passato Forse lassù ci va verso la base Tu potresti anche levarti un attimo dalle palle Ok ok Ho capito dove siamo Noi abbiamo fatto il giro qua Siamo scesi Esattamente in questo modo Poi a un certo punto Io sentivo dei rumori Che in realtà erano scheletri Da come cacchia l'ora sono sceso Da queste parti Eccolo qua infatti E questo è il nostro spawner di scheletri Che sta qua bello tranquillo Io però le coordinate Sapete Me le segnerei Ok Abbiamo le coordinate Poi andiamo a vedere rispetto alla base Dove cavolo sta Perché non ne ho idea Proseguirei qua giù Forse Ma anche Vabbè sì dai Buttiamoci Chi se ne frega Vedi Vedi Ci siamo buttati E giustamente Siamo stati ricompensati Per la nostra Per il nostro coraggio Allora io vorrei Tanto Proprio tanto Un bel secchio d'acqua Quindi io questo lo metto qua E mi vado a prendere Sta secchiata d'acqua Che sicuramente è meglio Allora Quanti diamanti ci saranno qui Non ne ho la benché minima idea Per il momento non promette bene questa cosa No No Infatti Uno Vabbè Ci va bene lo stesso Non facciamo gli ingordi Ho finalmente Un tunnel Che finisce Quindi siamo arrivati a un vicolo cieco Il che ci costringe A tornare indietro E noi ci torniamo molto volentieri Anche perché Facciamo un attimino i conti E vabbè Non sto ancora a due stack di ferro Però voglio dire Anche chi se ne frega Non è che mi servivano proprio Per forza due stack di ferro Qua ce ne saliamo così Qua c'è sto coso che Non dovrei farlo però Cosa è uscito? Qualcosa di utile? No Semplicemente un modo per perdersi peggio Qua c'è lo spawner di scheletri E va bene così Io a sto punto Si Passo per lo spawner Tanto ormai Abbiamo visto che ci riporta A una zona conosciuta Più o meno Ok Qua sotto non ci vado Vediamo qua Eccoci qua Questa è una zona chiusa Si arriva qui dentro E qua Ritorniamo in un punto conosciuto Più o meno Dove c'è dell'altro ferro Voglio dire A sto punto Io lo prenderei anche No? Continuiamo a mettere torce Come se non ci fosse un domani Secondo me sono molto vicino Nel punto dove ho preso i primi diamanti Il problema è che è un bel casino Orientarsi qua sotto Questi li abbiamo presi Questo Fatemi un attimino girare Che Non lo so Ogni tanto sento la presenza di un creeper Anche quando il creeper non c'è Ci prendiamo pure questo ferro qua Bellissimo Vai Eh che bella sessione di mining selvaggia Con tanto di mob spawner di scheletri Ma che vuoi di più Un altro mob spawner di scheletri Allora qua sopra Dedugo che ci sia un sacco di lava Perché vedo un sacco di goccettine Che scendono Selvagge Io qua metterei dell'altra luce Vediamo dove mi porta Eh questo posto sembra molto conosciuto Allora mettiamo delle lucette qua Ah si stanno avvicinando tutti Allora Io Non mi esplodere come al solito Cioè abbi la fede La fiducia di morire malissimo Eh ogni tanto C'è qualche di un altro Che mi sta rompendo le balli No La sta arrivando un altro coso Come si chiama Zombie Scusate C'ho dei momenti di amnesia totale qua Qua sotto che ci sta E ho finito di nuovo le torce E ho finito anche il carbone però Eh sti cacchi Eh no Così non va bene Aspetta Non posso andarla senza torce Disse lui mentre si incamminava lì Senza le torce ovviamente Ma perché faccio sempre il contrario di quello che ti Allora scusatemi Forse è un po' buio È decisamente molto buio E io torno Ho dei diamanti Non so se li vedete Spero di sì Perché non ho una cazzarola di torcia Perché le ho consumate Perché sono scemo Vabbè ci sono dei diamanti Li prendo Io spero tanto che voi stiate prendendo qualcosa Un diamante Due diamanti Tre diamanti Basta Va benissimo Torniamo dove c'è un po' di luce Altro ferro Che pure ci prendiamo veloce Mente Eh che modo selvaggio di parlare Velocemente Come mi vengono queste cose Non lo so Allora qua ci sono delle Io potrei prendermi questa torcia Per esempio E andare avanti con questa torcia Così no Se magari Te ne vieni con me Grazie Ok questa è una zona chiusa Ci riprendiamo la torcia E ce ne andiamo Allora io sarei quasi Invogliato a tornare a casa In questo momento Devo essere sincero Allora lì c'è dell'altro ferro Però non ho le torce Non trovo del carbone Al momento Ho lasciato un sacco di carbone in giro Lo so Che non lo so Certo che lo so Perché pensavo che non mi servisse Ho detto vabbè C'ho 2000 torce Che ci devo fare col carbone Poi me lo prenderò Più avanti E invece no Mi è finito tutto Perché ho messo torce in ogni dove Aspettate che cerco di salire Ok Sì siamo Siamo vicini A qualcosa Dove cazzo Sta andando questo Ma che problemi ha sto zombie Ma perché Ma sei Sei un bastardo però Cioè sei un infame maledetto Cioè ha fatto le finte Lassù non ci andremo mai Qua nemmeno Io qua vedo delle torce Ma da dove cazzo l'arrivo io Forse da qui Sì probabilmente arrivo da qui Va bene Non c'è problema Noi risaliamo Chi se ne frega Ok forse sto capendo dove sono E attenzione Signori una rivelazione Sono su minecraft Questo l'ho capito No in teoria dai Sto vicino alla mia base Là c'è del Della luce Cioè della luce C'è un buco Che sia il buco Che vedo pure dalla mia base Potrebbe essere Eh sì sto qua Raga sto qua Sto qua Sto qua tantissimo Non vi faccio vedere Che vado qua E in teoria Sì Aspetta un attimo Con calma Non rompete le balle Devo guardare in alto Per capire dove sto E in teoria sto qua Ma dove cazzo Alla sta il mio magazzino Ok forse questa grotta È più grande Ah sto più giù Ma Ok non ci sto capendo nulla Mi arrendo Cioè mi sono perso Ci sono troppi buchi Nel soffitto E non riesco a distinguere Qual è il mio Posto Attenzione Oh mio dio Qua c'è il mondo Eh raga C'è pure una strega No la strega no No la strega no Eh la strega no La strega è cattiveria Se mi metti la strega È perfidia proprio Allora signori Mi sto perdendo malissimo Avevo il sentore Che sarebbe potuto Finire male Questa cosa E purtroppo Sta finendo male Qua che cosa c'è Che vedo della luce Sti licheni maledetti Che mi traggono In inganno Amico E non te il cazzo Fermati Pure tu Cioè Devo tornare un attimino Nella mia base Andate tutti a rompere Porca zozza Però Ma che è Eh vabbè Pure questo Allora Devo ritornare Dove sono le torce Mi hanno tratto in inganno Quei buchi nel soffitto Lì Pensavo fossero Quelli che stanno Nella mia base Invece qua Sto da un'altra parte Totale Proprio Devo tornare Dove stanno le torce Le torce stanno di là E io tornerò di là Qua intanto Scheletri Creeper Mostri Zombie Chi più ne ha Più ne metta Ok Siamo in una zona Illuminata Giusto Quindi In teoria Eh no raga Questa è casa mia Cioè Stavo semplicemente Dall'altro lato Ma vai a cagare Ma dai Ma non ci credo Cioè Stavo qua Ma vi state rendendo conto Mi stavo perdendo malissimo Eccoci qua Eh Siamo tornati Signori Attenzione Io dormirei pure Se è notte Sì è notte Siamo tornati Con un bellissimo bottino Cioè abbiamo Uno stack e mezzo Più o meno di ferro 12 diamanti Non so se mi spiego Cioè non 5 diamanti 12 diamanti Che io adesso Metterò subito Eh Al riparo Intanto questa roba La smeltiamo Così Iniziamo ad avere Il ferro Che ci servirà Per farci le tramogge Anche se forse Non è ancora sufficiente Vabbè Non è un problema Tanto Adesso abbiamo capito Dove andare a scavare Tu perché non ti sto smeltando Non lo so Poi ti smelterò Comunque ragazzoli Io Penso di fermarmi qua Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Io vi auguro Una buona serata E ci vediamo Alla prossima puntata Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi